buongiorno a tutti e buon bentornati sul mio canale allora oggi faccio questo video perché vi voglio far vedere che ho cambiato un po le l'aspetto della mia fattoria per halloween allora innanzitutto come vedete ho cambiato sia la bancarella sia il furgone che la casa della mia fattoria grazie alle offerte di maggie per quanto riguarda la casa non ho comprato il tetto di halloween e le pareti esterne che ci sono uscite adesso ho preso soltanto la decorazione del diciamo del pavimento davanti alla casa e ho messo le pareti marroni e il tetto marrone che io già avevo adesso vi faccio vedere dal libro delle collezioni perché costavano di meno ho messo questo che costa semplicemente un biglietto viola e tre biglietti verdi e le pareti marroni se ne trovo le faccio vedere queste che costano sempre soltanto dei biglietti quindi senza spendere monete invece per quanto riguarda il furgone se non sbaglio ho preso tutte e due offerte di adesso di halloween però ho consumato i diamanti se avete diamanti in più che volete utilizzare vi consiglio di farlo perché è carino anche se poi successivamente con le offerte di natale si dovrà cambiare però ho lasciato le ruote russe perché a me le monete mi servono per comprare macchinari quindi non le ho volute cambiare la bancarella anche qua non ho preso soltanto il pavimento a terra la bancarella perché sempre perché ci volevano le monete e altre due azioni il tetto della bancarella e il contorno diciamo le ho presi adesso allora per quanto riguarda halloween ho messo anche alcune decorazioni allora dall'altro da questa parte della stella della fattoria io ho messo quasi tutte le decorazioni come vedete tutte da una parte ho fatto proprio l'angolino di halloween in modo che dopo halloween io cancello tutto tolgo tutto quanto e metto altre decorazioni sposto un po di nuovo le cose perché halloween comunque diciamo siamo all'inizio di ottobre queste decorazioni resteranno per una quindicina di giorni quindi non ne vale la pena di metterle in giro per la fattoria poi andare a cercare cancellare ho preferito mettere l'angolino direttamente così come all'interno invece della fattoria ho messo solo qualcosina tipo per esempio qui vicino alla casa ho messo le zucchette e le foglie che mi sono state che mi sono uscite dal dai biglietti del cinema sì a proposito dei biglietti del cinema se mi scrivete nei commenti se a voi sono uscite decorazioni diverse perché a me dai biglietti del cinema mi dà solo materiale per utili tipo asce paletti queste cose qua e come decorazione diciamo autunnale mi ha dato solo questi mucchietti di foglie per adesso poi ho messo qui in fondo alla fattoria ho comprato un bell'albero arancione e ci ho messo come contorno queste recensioni diciamo con i colori autunnali viola e arancio allora adesso andiamo un po a fare il giro dei macchinari e prendere le cose che ho prodotto ma ne sono poche perché non ho messo tante cose in produzione giusto qualcosina che mi serviva allora bel gelato al cacao qualche frullato e le torte perché avevo utilizzato il potenziamento di tre macchinari e quindi l'ho utilizzato e ho messo a produrre le torte allora vediamo invece i visitatori della città preferisco non dargli le queste cose perché danno pochissimi soldi e mandiamo un attimo questi due furgoni a uno solo perché qui adesso manca una cosa allora adesso chiedo l'aiuto perché se non sbaglio se completo qualche altro furgone passo il livello del pass e riesco a passare anche il livello della fattoria vediamo un po se mi aiutano mentre sto girando il video così vi faccio vedere anche quando c'è qualcosa succede quando si passa di livello si va avanti giriamo la ruota perché ancora non avevo girata speriamo che sia qualcosa di buono la stella ottima le monete che servono sempre poi vediamo ok allora qui il pass come vedete se faccio un obiettivo da 60 sono a 217 arrivo a 277 quindi giusto giusto per prendere le stelle passare il livello e mi mancano come vedete tre ordini del furgone se mi aiutano è fatta però per adesso non mi hanno aiutato per quanto riguarda il derby allora questa settimana il derby relax cioè il derby in cui anche l'altra volta che ho fatto vedere si devono fare cinque incarichi nella stessa giornata però sono incarichi veloci tipo per esempio qui bisogna produrre solo due succhi cinque cioccolata calda una sola barca quattro succhi a lui oggi non ho ancora fatto nulla come incarico ho messo solo in produzione i succhi però penso che non siano ancora pronti andiamo a vedere infatti no mancano due ore quindi non lo posso fare adesso per adesso inizio a prendere l'incarico o degli delle ananas anche ci mettono 30 minuti oppure della soia prendiamo la soia però non la posso fare qui non posso compiegare per dare l'incarico subito perché ci vogliono 20 minuti non mettiamo anche da quest'altra parte la soia così dopo raccogliendo cerco di due tre volte che raccolgo di finire l'incarico allora un'altra cosa è la contrada allora avete visto perché è ancora non ho fatto nessun video sulla nuovo sulla nuova contrada questa è la contrada con le galline come al solito galline non se ne vedono proprio vedete se io faccio il giro di quello che mi fa vedere senza nuvole non si vede l'ombra di una gallina allora giriamo la ruota è molto più difficile il derby con le galline perché poi gli animali portandoli al rifugio ti dà molti più molti più gettoni colorati con le galline è più complicato raggiungere mille mille due di ogni colore allora vediamo gli obiettivi di oggi raggiungi una trattoria raggiungi 10 edifici raccogli gettoni e completa due ordini allora trattoria nelle vicinanze non c'è quindi ci conviene fare la strada normalmente qui ciliegie non ne ho il grano non ne ho gran turco andiamo qua vedete da pochissimi gettoni 14 2 c'è proprio pochi 11 e 5 difficile quando il primo obiettivo è stato raggiunto a eccola la trattoria vediamo se vado di qua mi conviene andare direttamente alla trattoria perché non ho i prodotti del negozio precedente però devo andare a prendere prima le ciliegie per completarlo andiamo prima a vedere qui nella cassa un altro potenziamento torniamo indietro come vedete il deposito dei potenziamenti e pieno dovrei utilizzarne qualcuno questi due sono uguali per esempio il cotone peperoncino e zucca quindi vi lascio così nel caso devo scambio mi esce un potenziamento in più lo scambio con uno di questi due che sono identici altrimenti dovrei attivare gratis meggy anzi ruso sbagliato nome scusate adesso l'attivo così mi produce un po di cose senza che io gioco me li produce lei io non metto mai il massimo della quantità perché altrimenti non riesco a giocare tranquillamente perché si prende tutte tutti i prodotti allora per oggi penso di avervi fatto vedere abbastanza mi interessava soprattutto farvi vedere le decorazioni di halloween se vi fa piacere scrivetemi nei commenti le decorazioni che avete comprato e le decorazioni che vi sono uscite dai biglietti del cinema vi saluto alla prossima buona settimana a tutti